Sì, non è più a piccolare. non l'ha più piccato questo guardate è comunque 95 è pulbato il 95 guarda questo che è line bot sì certo far furbetto sì vabbè infatti c'è uno che ne botisce no dispara e si nasconde dove sto no 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 è uguale che questo guardate sabbia di tutto come si chiamava eh che fa no 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 oddio guarda che ho trovato mister non voglio perdere arrivato qua non puoi vincere contro questi è impossibile se non ti vogliono far vincere non vincere poco da fa non non hai vista una roba del genere ho Ma chi è? Io devo affrontare un team mentre mi spamma un altro, veramente? Non, 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 non. Non solo ho trattato, non ho fatto la buce o poi. No, vabbè mi sono spettato in trasera, non ci voglio credere. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.